che gol anche questo incredibile noi lo rivedremo ha dovuto indietreggiare per colpire quindi difficilissimo forse Carnesis avrebbe potuto provare qualcosa di più di nuovo preoccupato Garniani inquadrati in primone invece felicissimi tutti i giocatori del Milan che vanno a parlo a fare fermata e Bianco invece a questo punto anche lui è felicissimo guardate saltando va un po' indietro poi salta e riesce a dare comunque una cappocciata e la precisione assoluta verso il primo palo qui Carnesis non arriva manca proprio la palla che gol questo valissimo e balli indietro che sembrava miglianare agli europei